Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo subito parlando della Turchia e degli operatori aritini, vigili del fuoco ma anche medici e infermieri del 118 che stanno operando proprio in queste ore appunto nell'inferno della Turchia come sappiamo colpita dal terremoto nel servizio, vi facciamo vedere le immagini di un salvataggio. È passato un altro giorno in Turchia e ogni minuto, ogni secondo è fondamentale per salvare una vita, quella giovane vita che deve la sua sopravvivenza proprio ai vigili del fuoco italiani e aretini, queste sono le immagini del salvataggio. Avevano sentito una flebile voce sotto le macerie, hanno iniziato a scavare fino a che il giovane è stato tratto in salvo. Intanto un altro salvataggio è in corso, da un'altra parte sotto le macerie altre squadre in cui è diviso il contingente italiano stanno lavorando, ad oggi sono 60 gli operatori che lavorano incessantemente senza possibilità di alternarsi per salvare altre vite. E adesso invece parliamo della scossa di terremoto assolutamente non collegato ovviamente con quanto accaduto in Turchia ma che ha destato non poca preoccupazione nel territorio senese nelle ultime ore. ci spiega che cosa è accaduto Thomas Brown, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che come sappiamo ha sede ad Arezzo. Stanotte si è attivato una di queste fallie minori e quindi si è verificato un terremoto di magnitudo 3.5 e dopodiché è iniziata anche la sequenza degli aftershock che finora è arrivata a più di 50. Sotto i piedi di Siena la terra continua a tremare dopo la scossa di magnitudo 3.5, prosegue infatti lo sciame sismico. Fa paura soprattutto in questo periodo dove abbiamo queste notizie tremendi dalla Turchia. La prima scossa la più forte alle 21.51, l'epicentro a Siena ad 8 km di profondità. L'Italia si sta spezzando e questo si vede dai dati GPS che la parte orientale va verso nord-est più velocemente rispetto alla parte occidentale. La falla attiva nell'Appennino dalle nostre parti e soprattutto la falla alto di Perina. Rimangono comunque le vecchie fallie intorno a Siena ma anche a Cettaglio Castelfiorentino c'è stata una sequenzina qualche anno fa. E quindi queste falle ogni tanto si svegliano ma con delle magniture abbastanza moderate per accomodare lo stress che ce n'è a Penino. Decine le scosse registrate da ieri sera con magnitudo fino a 2.7. Lo guardiamo dal punto di vista statistico, un terremoto magari di magnitudo 3.5 automaticamente per soddisfare il nuovo equilibrio, diciamo per arrivare al nuovo equilibrio che si è disturbato da questa scossa vuole che ci siano altre scosse che portano a questo equilibrio. Nessun collegamento tra questo sisma e i forti terremoti accaduti in Turchia. Con quello di Siena non c'è nessun collegamento, è troppo lontano, è troppo scollegato, altre falle, altri sistemi e soprattutto Siena non è molto sismico generalmente. Se ci fosse un collegamento sarebbero scattate altre sequenze in aree molto molto più vicine e molto più pericolose. Nella settimana più fredda, come avevano annunciato gli esperti, effettivamente è stato così ad Arezzo si è toccato anche quota meno 7.9 tra le zone più fredde in queste ultime ore, il comune di Chiusi della Verna. Ma ci sono stati disagi anche per il ritorno della neve appunto in Casentino e in Valtiberina, soprattutto lungo la E45. Adesso la situazione è tornata alla normalità. Ci dice tutto Chiara Sadotti. La morsa del freddo continua a tenere sotto scacco tutto il territorio aretino, con temperature e sencità che in provincia che oscillano tra sotto e poco sopra lo zero. La punta più gelida si è toccata a Laverna, a quota 1.128 metri, dove si sono registrati meno 7.9 gradi centigradi. Segue Camaldoli con meno 7.3, temperature ben sotto lo zero anche nelle altre zone montuose e collinari dell'Aretino. Nelle montagne di Casentino e Valtiberina è poi tornata anche la neve. Nei centri dell'Alto Casentino, in azione, mezzi Spalaneve e Spaggisale, in particolare a Chiusi della Verna. Una forte nevicata nella notte tra mercoledì e giovedì ha anche paralizzato la E45 sul versante romagnolo, mentre su quello aretino la circolazione è rimasta possibile, ma il tratto tra Sansepolcro e Peave e Santo Stefano è stato monitorato con attenzione. Si sono registrate chiusure a tratti nelle ore notturne. Disagi che sono rientrati nella giornata di giovedì. Il codice al momento infatti è verde sull'intero tratto aretino. Domani 10 febbraio, giorno del ricordo, ad Arezzo in Largo Martiri delle Foibe, ci sarà la consueta cerimonia per ricordare appunto le vittime delle foibe. A partire dal 1943, migliaia di cittadini furono uccisi e infoibati oppure torturati e poi gettati ancora vivi nelle cavità carziche, molti costretti invece all'esilio forzato. Domani appunto la cerimonia per ricordarlo. Alla Terina invece alle 21.15 sul palco del Teatro Comunale, gli studenti del liceo artistico Piero della Francesca di Arezzo e la loro docente Rosaria Caffiero porteranno in scena storie quasi vere, un lavoro che nasce all'interno del progetto per la storia di un confine difficile. Torniamo alla cronaca, scende dal treno con 26 ovuli di eroina e è stato arrestato un 38enne. È stato trovato in possesso di 26 ovuli di eroina già suddivisi e pronti per la vendita per un totale di circa 25 grammi di stupefacente. Per questo è finito in manette un 38enne. Ad individuarlo sono stati i carabinieri di San Giovanni Valdarno nel corso di un controllo nei pressi della stazione ferroviaria di Monte Varchi. L'uomo sceso alle 9 del mattino da un treno proveniente da Arezzo aveva un atteggiamento sospetto alla vista dei militari e nonostante il suo palese tentativo di allontanarsi in fretta è stato fermato. Il 38enne con precedenti penali ha tentato anche di divincolarsi e sfuggire al controllo provocando delle lesioni ad uno dei carabinieri. Sottoposto alla fine ad una perquisizione personale è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente. è stato quindi portato in caserma per gli accertamenti di rito e arrestato in flagranza di reato per retenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Adesso si trova presso la casa circondariale di Arezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arresto è stato convalidato. Incontro questa mattina tra gli studenti e i carabinieri sul tema del bullismo e cyberbullismo. L'incontro è stato ospitato dall'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Castiglion Fiorentino a presederlo. Il capitano della compagnia Carabinieri di Cortona Antonio De Santis assieme al comandante della stazione luogotenente Donato Amodio gli argomenti toccati sono stati molteplici sviscerati in una interessante discussione molto partecipata da parte dei ragazzi con domande proprio sugli argomenti appunto esaminati e poi c'è stata anche la visione di un video istituzionale. Sono partiti i lavori che trasformeranno la struttura attuale che insiste sul parcheggio Baldaccio e che sarà destinata a servizi sanitari un'area che si completerà grazie ai fondi del PNRR con la realizzazione della nuova casa della salute da parte della ASL. L'annuncio è dell'assessore alle opere pubbliche del comune di Arezzo Alessandro Casi che appunto commenta così l'intervento di riqualificazione nuova destinazione dei locali su strada appunto che si trovano nella zona del parcheggio Baldaccio un investimento complessivo di circa 600 mila euro. E adesso parliamo degli incidenti causati dall'attraversamento di animali selvatici la Toscana ha il triste primato di essere appunto la prima regione in Italia proprio per questo tipo di incidenti e allora noi abbiamo fatto un viaggio nelle strade aretine più soggette a questo fenomeno. Con 20 incidenti gravi la Toscana si conferma nel 2022 la prima regione per numero di incidenti provocati dagli animali selvatici un triste primato certificato dall'ultimo osservatorio sugli incidenti degli animali dall'Aspas relativo al 2022 che arriva a pochi giorni di distanza dall'ennesima tragedia consumata sulle strade toscane un 47enne che ha perso la vita nel comune di Scarperia dopo aver urtato un cinghiale. A denunciarlo è col diretti Toscana che ha stilato una mappa regionale delle strade più pericolose da questo punto di vista. In tutto sono una cinquantina nel territorio aretino si trovano nella Valtiberina, la Libia nel tratto che dal comune di Anghiari porta il chiaveretto comune di Subbiano in Valdichiana, la regionale 71 nella zona di Castiglion Fiorentino e la strada provinciale di Palazzo del Pero che passando per la Foce arriva appunto alla frazione del comune di Arezzo. C'è un rimpallo tra la regione toscana anziché lo Stato per capire di chi è la responsabilità e di chi deve risarcire il danno in questi casi perché ovviamente la fauna selvatica è un bene dello Stato però poi la delega con la riforma dell'articolo quinto della Costituzione la delega sulla caccia è passata alle regioni e quindi poi ovviamente anche da questo punto di vista la nostra burocrazia crea ulteriori problemi oltre al danno alla BEF. Noi chiediamo un'attenzione importante a questo problema che vada oltre anche a quello che già la regione toscana devo dire ha fatto rispetto all'autorizzazione che recentemente ci ha dato per poter abbattere gli animali in caso in cui l'agricoltore riceva un danno e abbia ovviamente il porto d'armi però abbiamo necessità di modificare la 157 la legge nazionale sull'attività venatoria in modo da creare delle condizioni per creare una riduzione del numero di questi animali che in questo momento diventa veramente ingovernabile perché è vero noi denunciamo anche gli incidenti sulle strade ma è altrettanto vero che il problema più grande che abbiamo è quello dei danni farina di grano acqua e lievito per fortuna sono questi gli unici ingredienti ammessi per legge nel protocollo del pane toscano che esclude quindi la possibilità di usare polveri di insetti a dirlo è il presidente dei panificatori aritini di confcommercio luca ciardi che conferma la netta contrarietà della categoria ad utilizzare la polvere appunto di insetti possibilità che come sappiamo è stata introdotta dal regolamento della commissione europea nel 2023 che ha appunto autorizzato l'immissione sul mercato come nuovo alimento di questa polvere comprendiamo dice ciardi le difficoltà alimentari di tanti paesi del mondo che costringono ad una evoluzione nella gastronomia ma non siamo disposti a sacrificare la nostra storia né a rinunciare ai sapori della nostra tradizione Monsignor Paolo Bizetti ieri a rondine nell'architettura come nella vita ha detto costruire cose e relazioni che durino nel tempo il servizio le proporzioni di questo sisma di questo cataclisma le stiamo scoprendo di ora in ora il numero dei morti continua ad aumentare edifici che ancora crollano necessità proprio le prime necessità che ancora non sono soddisfatte quindi è uno sterminio in visita a rondine cittadela della pace il pensiero è andato subito alla sua Turchia colpita dal terremoto però anche il terremoto è un'occasione per farci interrogare su che cosa è essenziale la corsa al denaro la corsa alla sopraffazione oppure invece nell'architettura come nella vita nelle relazioni costruire cose che durino nel tempo Monsignor Paolo Vizzetti vicario apostolico dell'Anatolia e presidente della Caritas della Turchia ha visitato rondine per incontrare Gianbert il giovane turco selezionato per la seconda edizione del progetto Mediterraneo frontiera di pace educazione e riconciliazione la conferenza episcopale italiana attraverso il cardinale Barsetti volle lanciare questo tema molto lapiriano in ruolo del Mediterraneo non più un grande lago dove muoiono persone senza più un nome ma un luogo dell'incontro e delle antiche e nuove fraternità il giovane si formerà per un anno nella cittadella della pace per poi tornare nel proprio paese e contribuire a sviluppare progetti e supporto della comunità locale assieme a Caritas un impegno oggi quanto mai necessario perché noi già prima del terremoto comunque seguivamo più di mille famiglie povere senza distinzione di religione di etnia eccetera quindi in particolare certamente per i rifugiati quindi noi speriamo che questi giovani tra cui già me possano raccogliere il testimone di chi in questi anni ha cercato di ricostituire con una presenza caritatevole che manifesti la gratuità del volersi bene ed ieri l'incontro con i tre comitati dei pendolari a retini e i responsabili regionali del settore Riccardo Buffoni e Angela Dondoli sono disastrosi dice il presidente del comitato Maurizio Darei i dati sui ritardi ferroviari forniti dalla regione specialmente i ritardi nel mese di dicembre dovuti al 50% a guasti sulla linea retina e circa il 20% di media dei treni in ritardo nelle ore di punta la regione dice ancora il presidente del comitato pendolari non ha però indicato soluzioni per affrontare i disservizi se non una riprogrammazione dei treni considerati critici ma l'assessore si è impegnato per nuovi incontri ancora con i pendolari e anche con Trenitalia e RFI infine sulla trasparenza è stata richiesta la pubblicazione sul sito della regione delle informazioni sulla puntualità dei treni e sulle penalità inflitte a Trenitalia e adesso parliamo di infrastrutture e internet come sappiamo l'Italia ancora sconta un gap importante da questo punto di vista Estracom società del gruppo Estra e Fibre Connect SPA hanno concluso oggi un accordo di partnership strategica per accelerare l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura della banda ultra larga nelle più importanti aree industriali della regione toscana il progetto consentirà la crescita infrastrutturale delle reti nelle aree industriali che andranno ad aggiungersi a quelle già realizzate siamo alla pagina della cultura in particolare parliamo di teatro perché dal prossimo 12 febbraio torna la rassegna Generazione Z una serie di spettacoli dedicati alle generazioni dei più giovani ma non tanto come tema degli spettacoli ma proprio sulla drammaturgia contemporanea quindi nuovi compositori di spettacolo e nuove scene per i ragazzi il teatro e le nuove generazioni ad Arezzo tornano in scena dal 12 febbraio al 15 aprile gli appuntamenti della fortunata rassegna Zeta Generation Meet Theater a cura di officine della cultura in collaborazione con Fondazione Guido D'Arezzo si parte il 12 febbraio con questa splendida non belligeranza che è uno spettacolo che ha vinto quest'anno il festival nazionale in box quindi 80 teatri hanno scelto questo spettacolo da mettere in scena continueremo con il 25 febbraio Dialoghi degli Dei uno spettacolo che verrà fatto anche in mattine da Isacchi di Sabbia un gruppo di pisani veramente simpatico che racconta i classici in maniera divertente il 18 marzo Salto di specie il nuovo spettacolo di collettivo Controcanto un gruppo di giovani romani che ha fatto grande successo e sta esplodendo in tutta Italia per gli spettacoli che sta facendo una drammaturgia di gruppo veramente importante 26 marzo una talpa uno spettacolo che è nato qua in provincia perché ha fatto una residenza a Montesanzavino e poi debutterà proprio al teatro Pietro Aretino e la mattina la faremo vedere anche ai ragazzi chiudiamo con Il Bambolo 15 aprile uno spettacolo che è passato anche dal piccolo di Milano quindi una chiusura col botto per la nostra Z-Generation Ha preso il via la decima edizione del premio letterario nazionale Ridi Casentino è stato infatti pubblicato il bando per poter partecipare al concorso dedicato ai racconti brevi di genere comico ironico e divertente la gara promossa dall'associazione culturale Noi delle Scarpe Diverse è aperta alla partecipazione di autori professionisti e amatoriali che potranno inviare fino a tre testi a tema libero che verranno poi valutati da una giuria per individuare i più meritevoli la finale sarà il 5 agosto a Poppi il regolamento è disponibile sul sito www.ridicasentino.it c'è tempo fino al 25 di giugno e siamo allo sport prove speciali ridate iscritti che toccano le tre cifre sono gli argomenti più che validi per decretare il successo del terzo rally Terra-Valle del Tevere e Arezzo ormai pronto in calendario questo fine settimana c'è grande soddisfazione tra gli uomini della Valtiberina Motorsport che per questa terza edizione della propria competizione ha conosciuto un nuovo stimolo di adesioni peraltro di elevato livello per arrivare poi a toccare quota 100 grande interesse anche per la novità che il rally andrà a coinvolgere il territorio della città di Arezzo dove avrà luogo la partenza sabato 11 febbraio alle 15 e dove si avrà appunto una prova speciale ricca di storia ed infine una notizia che arriva invece dall'Arezzo calcio femminile in accordo con la società ospite la partita ACF Arezzo Brescia femminile valevole per la 17esima giornata del campionato di serie B in programma domenica 12 febbraio allo stadio comunale città di Arezzo è stata posticipata alle 15 e 30 è tutto per questa edizione vi ringrazio per la cortesia e attenzione e vi lascio con i nostri programmi arrivederci e vi ringrazio per la cortesia 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 per la cortesia Grazie.